Il paese di Mentana, situato nella provincia di Roma, è il lutto per la scomparsa di un'icona televisiva amata da tutti, Tommaso, chiamato da tutti Tommasino Accardo. Questo affabile personaggio televisivo è stato scoperto e portato alla ribalta grazie a Fiorello, con il quale ha condiviso dei momenti indimenticabili durante gli anni 2000, girando insieme diversi spot pubblicitari. Tommasino era una persona rispettata e amata dalla comunità, amava fare lunghe passeggiate per le strade e non era raro che venisse riconosciuto dai suoi concittadini, ai quali non negava mai un caloroso sorriso. La sua gentilezza e la sua schiettezza lo rendevano infatti un punto di riferimento nella sua città. E nel lontano 2000 fu proprio Fiorello a scoprirne il suo talento e a portarlo con sé in una serie di progetti televisivi. Oltre infatti agli spot pubblicitari, spesso per importanti compagnie telefoniche, Tommaso partecipò anche agli spettacoli condotti da Fiorello. Il suo aspetto caratteristico, col suo baffetto e il suo viso simpatico, lo rendeva perfettamente addetto al mondo dello spettacolo. Tommasino ci lascia alla veneranda età di 82 anni e il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori delle persone che lo hanno amato.